Meghan Markle e il principe Harry hanno collaborato con la biografia non autorizzata, Finding Freedom, è stato detto a un tribunale, il libro, scritto da Omid Scobie e Caroline Duran, è incentrato sulla vita coniugale del duca e della duchessa del Sussex ed è stato pubblicato nell'agosto dello scorso anno. Finding Freedom entra nel dettaglio della loro relazione, della famiglia reale e della vita personale, Harry e Meghan hanno entrambi negato di essere coinvolti nella biografia, affermando che i suoi autori non parlano a loro nome. La duchessa del Sussex ha avviato un procedimento legale contro Associated Newspapers Limited, ANL, per violazione del copyright su quella che sostiene essere una lettera privata scritta al suo ex padre, Thomas Markle. Nel settembre dello scorso anno, l'ANEL ha sostenuto che il duca e la duchessa del Sussex avevano collaborato con gli autori del libro di recente pubblicazione Finding Freedom per pubblicare la loro versione di determinati eventi. Ora, l'ex segretario alle comunicazioni di Meghan e Harry, Jason Knauf, ha presentato una testimonianza alla Corte d'Appello, nella dichiarazione, Knauf ha affermato che Harry e Meghan hanno autorizzato una cooperazione specifica per iscritto nel dicembre 2018. Knauf ha affermato che il libro è stato discusso direttamente con la duchessa più volte di persona e tramite email. Ha affermato che Meghan ha dato agli autori del libro utili promemoria sullo sfondo scritti e note informative per quando ti siedi con loro. Ha detto in una email presentata come prova, la duchessa. Punto. Ha aggiunto i punti informativi che voleva che condividessi con gli autori nel mio incontro con loro, ex segretario alle comunicazioni ha affermato che queste note includevano cose su suo padre, i suoi fratellastri, la sua prospettiva sulla dichiarazione di Harry del 2016 sul suo trattamento sui social media. Il signor Knauf ha anche affermato che Harry ha fornito indicazioni scritte per gli autori. In un mail inviata nel 2018, Harry ha scritto, sono totalmente d'accordo che dobbiamo essere in grado di dire che non abbiamo avuto nulla a che fare con questo.